Ciao qui è Joe, seduzione attrazione, e nel video di oggi rispondiamo a una delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è, quale alternative esistono, oltre al rapport, per fare in modo che, in seguito, una ragazza risponda ai nostri messaggi? Ok, per prima cosa, da quello che posso capire, in realtà in questo momento le ragazze non stanno rispondendo a quelli che sono i tuoi messaggi, o gran parte delle ragazze non stanno rispondendo a quelli che sono i tuoi messaggi, che è una cosa abbastanza normale, non ti preoccupare, all'inizio, quantomeno. E quindi, quello che vuoi capire è se ci sono delle alternative rispetto al rapport per far sì che questo accada, che il tuo obiettivo accada, cioè che rispondano a quelli che sono i tuoi messaggi. Partiamo da una grossa premessa, il rapport non si può saltare, semmai ne puoi fare di più. E tieni anche presente che fare rapport non significa necessariamente che lo stai facendo bene, nel senso che molto probabilmente tu utilizzi anche delle tecniche di attrazione, piuttosto che di escalation fisica, eccetera, 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 ma questo non vuol dire che semplicemente perché hai una conoscenza teorica di quella che è una tecnica di base, tu riesca ad applicarla nella maniera più corretta possibile. Quindi non è detto che tu abbia bisogno necessariamente di alternative, ma può darsi semplicemente che devi fare più rapport, o che devi migliorare la qualità del tuo rapport. Ed in ogni caso tieni presente che devi molto probabilmente migliorare anche qual è la qualità della tua interazione in generale. Perché ti dico questo? Perché quando arrivi a un buon livello, ti posso garantire per esperienza mia e di altre persone, che in realtà ci saranno delle volte in cui ti sembrerà di aver fatto l'interazione perfetta e non succede nulla. Altre volte in realtà fai un'interazione di un minuto, la ragazza interessata, risponde ai tuoi messaggi, esce con te. Quindi in realtà è molto molto importante che tu capisca che non si tratta solo del rapport, ma di un qualcosa di molto più omogeneo all'interno di tutta quella che è l'interazione, che va fatto in maniera corretta. Sicuramente sì, il rapport va aumentato, qualora ce ne sia la possibilità, soprattutto se in questo momento tu ti rendi conto di prendere numeri di telefono che non sono particolarmente solidi, e devi migliorare quella che è l'interazione in generale, sia migliorando quella che è la tua conoscenza teorica, sia migliorando quella che è la tua applicazione sul campo, che poi significa farsi più il culo in parole povere per riuscire ad arrivare a questo risultato, e in più migliorando anche quella che è la tua analisi a posteriori di quello che è successo, se non la fai ti consiglio di iniziare a farla, perché questo ti permette, dopo un po' di interazioni, di iniziare col tuo cervello a unire i puntini, se la vuoi vedere così. Un'altra cosa che tu puoi fare è rimanere 5 minuti dopo aver preso il numero, e questo perché fondamentalmente? La maggior parte dei ragazzi quando prendono il numero di telefono di una ragazza, sono lì come se si trovassero con, oddio, una granata che sta per esplodere fra le mani, e non sanno cosa fare, scappano semplicemente. Questo non è il miglior modo di approcciare la cosa. Ora ovviamente non ti dico che tutte le volte c'è la possibilità di rimanere 5 minuti in più, ci saranno delle barriere logistiche temporali che a volte non te lo permettono, ma se c'è la possibilità sono assolutamente 5 minuti ben spesi, in cui ti rendi curioso, per così dire, per quella che è la ragazza, per quelli che sono i suoi interessi, nel conoscerla un po' meglio, nel limite dei 5 minuti, insomma 10 se è il caso, eccetera, 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 perché in questo modo le dai la sensazione che non ti interessava semplicemente prendere il suo numero, pompare se così la vuoi vedere il tuo ego, ma era interessato alla ragazza stessa e quindi aggiunge un'extra solidità, se così la vuoi vedere, al numero che hai preso. In più, una cosa estremamente importante e che è un po' controintuitiva in realtà, rispetto a quella che è la domanda, è colpire quello che è il rimorchio a una certa velocità e a una certa intensità. Cosa significa? Significa, ti faccio un esempio, immagina che vai in palestra e inizi a fare push-up per migliorare quello che è il tuo muscolo pettorale. Ne fai 10 a settimana. Non è abbastanza per produrre un tipo di risultato che vuoi tu, che vuole chiunque faccia un'attività fisica in palestra. Allo stesso modo, purtroppo, anche quando studiamo queste dinamiche, se non colpiamo la giusta velocità e intensità, in realtà ci ritroviamo quasi sempre a ripartire da capo. E quindi è veramente, veramente importante che quantomeno nel primo periodo tu ci dai dentro perché vedrai che a un certo punto, in maniera quasi fisiologica, se fai tutte quelle che sono le cose che ti ho detto finora nel video, aumenteranno quelle che sono le tue chance di successo. Ossia, vedrai che ci saranno molte meno ragazze che si comportano come si stanno comportando adesso, non rispondendo a quelli che sono i tuoi messaggi, al di là di quello che è il rapporto che comunque ti consiglio di migliorare. In più, ultima cosa, ma estremamente, estremamente importante, aumenta quello che è il tuo valore di uomo. Cosa voglio dire? Molti uomini devono mettersi un po' nella testa di una ragazza perché noi pensiamo, ok, mi piace la ragazza, vuoi uscirci. Loro vivono in una realtà un po' diversa, vivono in una realtà in cui filtrano quelli che sono i numeri di telefono degli uomini che le contattano. E quindi devi capire che si tratta anche di vincere su quella che è la competizione, di altri uomini che la stanno contattando allo stesso momento, di altri uomini che magari la conoscono da più tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Uomini online, c'è un bombardamento continuo per le ragazze di potenziali uomini che vogliono conoscere, vogliono far sesso con loro. Quindi è estremamente, estremamente importante che ti rendi il più raro possibile. E aumentare il tuo valore di uomo è un concetto che è molto ampio e riguarda un sacco di parametri. Ne ho parlato in maniera molto, molto approfondita in Insider Mind. Ti lascio, se sei interessato, il link in basso. E quindi queste sono concludendo quelle che sono le cose che tu puoi fare per rendere maggiormente solidi quelli che sono i tuoi numeri. e tieni sempre presente che in realtà, visto che mi hai fatto la domanda cosa posso fare alternativamente al rapport, sì, ci sono tutte queste cose, ma ripeto, il fatto che stai facendo un rapport non significa necessariamente che lo fai nella maniera corretta o nella maniera migliore possibile. E in ogni caso in un'interazione ci devono essere tutti gli ingredienti per portarla a essere un'interazione di successo, non solo il rapport. Non ti far ingannare dal fatto, sto facendo un rapport, quindi la ragazza mi deve rispondere. Non è esattamente così. Devi far bene tutte le cose o quantomeno tutte in maniera sufficiente. Ok, prima di andare ti ricordo di iscriverti al canale e se vuoi diventare un maestro della conversazione ho creato una serie di video gratuiti proprio su questo argomento. In questi video vedrai vari filmati di approcci di ragazze dove uso le tecniche di conversazione e poi te le spiego passo passo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.